Io vi domando solo una cosa, abbiamo visto prima ad esempio l'articolo 70, voi firmereste un documento nel quale non capite quello che c'è scritto? È il diritto di ogni cittadino poter aprire la propria Costituzione, capire ciò che c'è scritto e poter capire qual è la norma fondamentale che regola la vita civile in questo Paese? È il diritto del cittadino poter eleggere un organo costituzionale parlamentare e poter mandare a casa chi ha governato male, cosa che invece impedisce questa riforma con il Senato? È il diritto degli enti locali e i servizi che vengono dati ai cittadini devono essere potenziati, non annientati. Lo scopo di una riforma è quello di portare tutto il Paese, tutte le regioni del Paese alle migliori pratiche, non un livellamento verso il basso. Io vorrei che la sanità calabrese fosse come quella lombarda, non che quella lombarda diventasse come quella calabrese. Io vorrei che i cittadini avessero ancora la libertà di poter votare, per esempio, in un'elezione democratica, una maggioranza che sia in grado anche di modificare la Costituzione. Voi sapete che con questa riforma nella sostanza la Costituzione non potrà più essere toccata? Perché la maggioranza del Senato non avrà più un mandato politico e quindi se anche il 100% dei cittadini voteranno una maggioranza per dire cambia la Costituzione, quella maggioranza non potrà farlo perché c'era un Senato non eletto non avendo un mandato politico. E quindi vi chiedo soltanto, bisogna cambiare questa Costituzione? Cambiamola. Però cambiare a prescindere, non stiamo parlando di una legge che può cambiare da un giorno all'altro, ma la Costituzione diventa un punto di non ritorno. Riflettete tutti e sono convinto che i cittadini liberi voteranno no, perché questo è un voto per la libertà. Grazie Federica, le lascio il cartello. Prego.